Siamo con Mario Simonelli, storico ex sindaco di Orsara di Puglia, attualmente coordinatore del locale circolo del Partito Democratico. Il sindaco ha lanciato un allarme, Tommaso Lecce, qualche giorno fa, proprio attraverso la nostra testata, circa la chiusura dell'unico istituto bancario, ma non è l'unico servizio essenziale che purtroppo sta abbandonando comuni come Orsara, comuni dei Monti Dauni. Lei che cosa si sente di aggiungere? Sì, l'appello che ha fatto il sindaco, lo condivido, è anche giusto che venga fuori attraverso i mezzi della comunicazione, che forse è l'unico modo per poter parlare pure oggi. A seguito del Covid a noi mancano quelle assemblee dove si partecipava, si discuteva e quindi molte cose non venivano neanche affrontate così, perché veniva dal basso. Invece ci siamo trovati a subire delle scelte che nessuno sapeva niente. Però, come si dice, il segreto di Pulcinella, perché i dipendenti comunali già dal mese di agosto, dal mese di luglio, avvertivano di questa chiusura, quindi due mesi fa, tre mesi fa. Vedo anche questo operario da parte del Sini, lo vedo un po' inopportuno, fuori tempo. Non è che io voglio contestare o voglio mettere in discussione quello che ha detto, però bisognava muoversi prima. Ma a questo io aggiungo anche un'altra cosa. Noi prima tenevamo due banche, tra cui quella banca che hanno chiuso già anni addietro, aveva la tesoreria comunale, quindi un altro servizio essenziale per una comunità e quindi i contratti non si fanno in modo unilaterale, perché quando uno vince una gara, e mi riferisco alla tesoreria comunale, io penso che la cosa essenziale, principale, è la sede. Non mi puoi poi sbattere a 20 chilometri di distanza dove abbiamo appunto una società molto anziana, dove i mezzi pubblici non ci sono e muoversi, anche la distanza geografica non è la distanza geografica normale, perché devi fare salite, discese, cattivo tempo, strade che sono quelle che sono e quindi si aggravano sempre di più in una situazione di isolamento. Simonelli non crede che se un istituto bancario arriva a chiudere una sede c'è dell'altro, ci sono dei motivi validi, perché se 2 più 2 non fa più 4 è ovvio che ci troviamo di fronte a queste iniziative che penalizzano sì la comunità locale, però le banche se non quadrano i conti non guardano in faccia nessuno. Sì, senz'altro, perché loro stanno facendo un po' i cosiddetti conticini in casa e quindi per risparmiare, però io dico che noi orsale abbiamo una bella realtà di imprenditore, ci sono attività che ci sono centinaia di dipendenti e quindi mi sembra strano che non ci sia quel movimento che le banche chiedono. Quindi penso che è una cosa da affrontare veramente sui tavoli tecnici e istituzionali, perché così facciamo il gioco di queste persone che hanno i propri interessi. Quindi bisogna, secondo me, avere quanto prima e occupare quello spazio giusto e non avere un vuoto politico e un vuoto istituzionale. Simonelli, il prossimo anno, la prossima primavera, si torna a votare ad Orsala di Puglia. Vedo che lei è già candidato sindaco? No, non mettiamo il carro davanti ai vuoi. Io ho dato tanto per questo paese, certo che non è che voglio fare i paragoni come si stava prima, come si sta oggi, però il PD deve riprendere in mano una situazione che nell'ultima competizione elettorale siamo usciti divisi, sparpagliate e con un programma probabilmente dove non c'era questa condivisione. Quindi queste sono anche le conseguenze che quando una comunità si divide abbiamo anche conseguenze economiche, politiche e culturali.